Preparazione Taglio a piccoli pezzi 100 grammi di scalogno In un tegame verso 100 millilitri di olio d'oliva extravergine a fuoco medio per rosolare la scalogna Metto il coperchio finché la scalogna si è rosolata Terminata la rosolatura aggiungo 150 grammi di riso per risotti per tostarlo Avvenuta la tostatura del riso aggiungo mezzo bicchiere di vino bianco secco che faccio evaporare Evaporato l'alcol del vino aggiungo gradualmente il brodo vegetale, circa 500 millilitri Preparazione condimento Ingredienti 100 grammi yogurt greco 30 grammi grana grattugiata 60 grammi prosciutto crudo paprika affumicata quanto basta Verso nello yogurt greco la paprika in polvere Ottenuta la cottura del riso lo verso in una terrina Aggiungo lo yogurt greco con 30 grammi di formaggio grana Aggiungo lo yogurt greco la pasta Molina grana 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 che faccio evo il prosciutto lo taglio a pezzetti per poi amalgamarlo al risotto a pezzetti per poi amalgamarlo al risotto a pezzetti per poi amalgamarlo al risotto a pezzetti per poi amalgamarlo al risotto